SABATO 9 FEBBRAIO E lo facciamo con una replica che il governatore Toma ha fatto ieri dopo le dichiarazioni che il direttore di Teleregione Pierluigi Boragine aveva raccolto ai due commissari, commissario e subcommissario alla sanità. Al suo microfono avevano parlato di un aumento delle tasse sotto il profilo sanitario e di un blocco del turnover. Bene, ieri abbiamo raccolto invece la reazione del governatore in merito a questa ipotesi. Sentite che dice nel servizio della collega Valentina Ciarlante. I molisani hanno bisogno di considerazione non dell'ennesimo aumento delle tasse. Questo è il Toma Pensiero reso noto dopo aver scoperto il quadro nero dipinto dal commissario Eugustini sul futuro del comparto sanitario. Di ritorno da Bruxelles il governatore ha partecipato all'assemblea di Palazzo d'Aimmo, convocata per trattare temi importanti, quali le società partecipate, il parziale accorpamento di alcune di esse, la regolamentazione delle carresi di cui si sta discutendo in prefettura con i sindaci, alcuni presenti in aula, ma non ha potuto tralasciare l'argomento sanità. Il presidente Contoni Pacati ha annunciato che darà spazio a tutta la diplomazia possibile per indicare altre strade dopo che la valutazione sui dati della struttura commissariale sarà ultimata. Io dico che bisogna prima approfondire la documentazione che l'ASREM e la Direzione Generale della Salute ci metteranno a disposizione. Penso che i commissari stiano approfondendo. Mi risulta che è un'ipotesi quella paventata dal commissario. Spero che non si vada in tal senso anche perché la Regione Molise e i molisani non si possono permettere ulteriori incrementi di aliquote. Anche perché lei prima della nomina e anche immediatamente dopo aveva preannunciato un futuro diverso. Secondo lei si sarebbe potuto uscire dal piano di rientro nell'arco di un anno e mezzo. Invece adesso che succede? Sì, io avevo preannunciato proprio l'uscita nel giro di un anno e mezzo, massimo due anni. Non so, vedremo quali dati sono in possesso dei commissari e poi valuteremo se ci sono ipotesi diverse da percorrere. Se ce ne sono cercheremo con la diplomazia e con l'attività politica di convincere commissario e governi che forse bisognerebbe prestare più attenzione a questa Regione. Questione staff Giustini con una lettera inviata alla Regione e ai Ministeri dell'Economia e della Salute ha chiesto di essere affiancato da un addetto stampa, da una segretaria e di avere un autista. È la prima volta dal 2007, cioè da quando esiste la struttura commissariale, dicono fonti regionali, visto che i predecessori contavano su collaboratori interni e che quindi non vi erano ulteriori costi per l'ente. Si è appreso pure che la Regione avrebbe esaudito e desiderata del commissario, mettendo a disposizione un giornalista esperto in comunicazione sanitaria, un addetto alla segreteria e anche l'autista. Ma Giustini ha gentilmente rifiutato poiché intenzionato a scegliere personalmente i propri collaboratori. Sul suo presunto essere bullo, poi, Toma ci ride su. Sinceramente non penso che sia uscita dalla bocca del commissario e della vice una frase del genere, anche perché so che non l'hanno pronunziata. Non sono affatto risentito, ma sono divertito. Penso che forse Di Maio si è lasciato prendere un po' dalla foca della campagna elettorale abruzzese e abbia affermato, forse su suggeritori con suggerimenti sbagliati, posso immaginare, potete immaginare chi può essere il suggeritore, abbia affermato che io bullizzo i commissari, ma sulla base di notizie assolutamente inesatte. Ma vi pare che io possa bullizzare delle persone per bene come sono i commissari? Il primo piano Molise si occupa di questo argomento in apertura, aliquoti al massimo e blocco del turno, vera Monito Giustini. Lo scenario disegnato dal generale non convince il governatore Toma, aspetto di vedere i conti, l'aumento delle tasse può essere evitato. Critica la Will, a tagliare dice sono bravi tutti, scettico pure l'ex commissario Frattura. Otto mesi fa il bilancio era in pareggio, cosa è accaduto nel frattempo? A proposito di sanità c'è la spalla, insieme possiamo farcela, e poi i vertici della Cattolica Palazzo Vitale e dal Vescovo. Lunedì invece incontro urgente con i sindacati, alle riunioni ha partecipato anche il presidente del CDA del Gemelli. Si parla poi di amministrative, di primarie del PD, Campobasso, Di Niro esce allo scoperto, lo fa su Facebook, lancia la sua idea di città. Michele Durante è invece in corsa, la segreteria del PD scarica ruta, dice lo ringrazio per il suo sostegno ma io sono autonomo. Politica in lutto e scomparso Mimmo Pellegrino, per decenni riferimento della sinistra molisana. La cronaca, armati di taglierino a volto coperto, tre banditi svaliggiano la cassa di Banca Apulia, accaduto ieri nel tardo pomeriggio a Termoli. Serie D, derby tra Campobasso e Isernia, i lupi perdono calzola, l'evento, riapertura del Civitelle, l'Agnonese invita il presidente federale, Gravina. Il quotidiano del Molise, armati e pronti a tutto, fanno eruzione nella filiale Banca Apulia. Gli impiegati erano intenti a contare soldi che servivano a caricare il banco, ma quando sono entrati due banditi. Carciapesta anche ad un terzo complice che faceva da palo. Senato Ortis, la riduzione dei parlamentari è realtà ma il Molise non si tocca. Primari e PD per durante il necessario riprendere il dialogo con la gente. In Consiglio regionale passa la proposta di legge Salva Carresi, addio a Pellegrino, figura storica della politica regionale. Vasto Girardi o Redanzia per ritrovare un'anziana scomparsa. Termoli verso il futuro con la fatturazione elettronica. Segreteria e tasse al massimo, polemica sui commissari che ieri hanno incontrato la Cattolica. Lavoro, rilascio del DURC, le rivendicazioni di Impresa Italia. Campobasso, tempi duri per i furbetti delle assicurazioni e revisioni auto non pagate. Ora c'è lo street control. Sparano all'auto sbagliata dopo un inseguimento. Due agenti di Vasto indagati. Cercavano gli autori di una rapina in gioielleria. Sport, serie D, il lupo all'esame Silva, derby condito dai tanti ex. Isernia, Petitti, Guida i Pentri e Sogno, il colpo al Selvapiana. Gli anticipi, quattro le gare in eccellenza, c'è il Venafro. Basket, A2, la Magnolia, cerca la decima. Vittoria interna. Ed ora invece le testate nazionali. Il giornale con l'intervista a Silvio Berlusconi, che parla di Salvini, Francia e Tasse, racconta la sua versione. Con Matteo nessun problema, il futuro è il centrodestra. I grillini adesso facciano un referendum sulla TAV. Industria, picco, produzione a meno 5,5% e spread a 300. L'ombra di un ricatto a luci rosse dietro la guerra a Trump-Bezos. Macron, l'Italia, già in ritirata di maio, è il più asino d'Europa. Casta 5 stelle a Bruxelles, 8 portaborse per ogni deputato. Dal giornale, al corriere della sera, Salvini apre il gelo di Macron. Air France si sfila dal salvataggio di Alitalia. Crolla la produzione industriale sullo spread. Il ministro dell'interno invita il collega francese, replica dell'Eliseo, il premier Conte, lo abbiamo già incontrato. Lega davanti ma in frenata, il Movimento 5 stelle al 25,4%, risale Forza Italia, giù il PD. È il sondaggio relativo alle europee. Manuel, il coraggio e l'abbraccio. Tornerò ancora più forte il messaggio del notatore ferito. L'amico campione Detti, lui, è una roccia. La Repubblica parte l'assedio alla Banca d'Italia, dossier dei 5 stelle contro i vertici. Scontro al CDM da Di Maio Stop ad un vice direttore. Produzione industriale crollo a dicempre. Tutti gli occhi di Genova sul ponte che scompare. I giorni sono questi della demolizione raccontati da Alessandro Cassinis. Il messaggero, ritorsione su migranti all'Italia. Alta tensione Italia-Francia, l'Eliseo snobba Salvini, Parigi frena su Air France. Stop accoglienza, crolla la produzione industriale, spread a 2,90. Banca Italia, Lite, 3 a 5 stelle, il caso Spol System. Il nord spoglia la scuola, via da Roma 8 miliardi e 200 mila statali. Crisi, rifiuti, terremoto a Roma, raggi, perde un altro assessore. Via la Montanari, bilancio bocciato, c'è l'emergenza, immondizia. Manuel e il giudice volevano ucciderlo. L'abbraccio della fidanzata, resto con lui, gli aggressori rimangono in carcere. Il sole 24 ore, crolla la produzione spread a 2,90. Istat a dicembre, calo del 5,5 per l'attività industriale. È il peggior dato dal 2012. Il differenziale ai massimi da due mesi, rendimento sopra il 3%. Il CER ribassa a meno 0,3 la stima sulla crescita tendenziale del PIL nel primo trimestre. Appalti e reti di impresa in 7 mila al Connect. Debito italiano per 285 miliardi e francese. Le imprese con Parigi, tensione dannosa, boccia, conte, chiami Macron e normalizzi i rapporti con la Francia. Andiamo in cesura con la Gazzetta dello Sport. Stasera a Parma, all'Inter si gioca tutto. La domanda in apertura ai spalletti, crudo cotto. Dopo tre settimane da incubo, l'allenatore alla sfida decisiva. In ballo ci sono le nostre carriere. Albertini tra i nero-azzurri, la presunzione ostacola il gioco. Il neo-responsabile del settore tecnico federale, un orgoglio, tornare a lavorare per il calcio italiano. Flamengo, la strage dei piccoli, i campioni, la tragedia, il Rio de Janeiro rogo nel vivaio della più famosa società brasiliana. Dieci giovani talenti morti mentre dormivano. Prima di salutarci vediamo quali sono i programmi che andranno in onda oggi sulla nostra rete. A partire dalle 11 conto alla rovescia, alle 13 camminando Molise, alle 13.50 Musa TV, alle 14 la diretta del telegiornale, alle 16 conto alla rovescia, alle 18 speciale Transumanza, alle 19.30 torna l'informazione, alle 21 invece il momento di Paese Mio, alle 23 l'ultimo appuntamento con il telegiornale. È tutto anche per questa mattina. Grazie come sempre per averci seguito. Arrivederci. Grazie a tutti.